Per molti adolescenti la scuola è un luogo di ritrovo per stare con gli amici, ma purtroppo non per tutti è così. Immaginate quanto sia frustrante passare tutti gli anni scolastici a sentirsi ignorati. Noi viviamo con la costante sensazione di sentirci un peso per la società e questo ci limita moltissimo. Vi faccio un esempio. Spesso mi sono ritrovata a non essere invitata ad uscire o ad essere isolata in classe quando poi avrei voluto soltanto partecipare ai loro discorsi. Lo so, è brutto da sentire, ma ciò che è capitato a me e sono sicura di non essere l'unica ad aver provato questa sensazione. Mi chiedo, perché vi comportate in questo modo? Provate ad andare oltre, ne potreste rimanere stupiti.